MIMO 2021, benvenuti o bentornati a Fast & Curious, tre minuti con Vincenzo Piccardi, responsabile comunicazione Auto Honda Motor Italia. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a voi. Domande secche per te. Spariamo subito motore ibrido o elettrico? Elettrico. Mare o montagna? Mare. SUV o station wagon? Sub. Palestra o divano? Palestra. Trazione anteriore, posteriore o integrale? Posteriore. Vinili o MP3? MP3. Cambio manuale o automatico? Manuale. Libri o ebook? Libri. Acquisto o noleggio? Acquisto. Android o iOS? iOS. Mezzi pubblici o monopattino? Monopattino. Instagram o TikTok? Instagram. Coupé o Spyder? Spyder. TV o Netflix? TV. Plug-in? Full Hybrid o Mild Hybrid? Full Hybrid. E ora per due minuti raccontaci cosa portate a MIMO 2021? A MIMO portiamo la nuova gamma elettrificata di Honda, in particolare la piccola elettrica Citycar Honda E, gioiello di tecnologia, trazione posteriore, vettura prestazionale ai vertici del segmento e poi la gamma Jets segmento B, full Hybrid, quindi motore elettrico e motore termico. È una gamma che si compone fondamentalmente di due versioni, una versione standard e una versione un po' più sportiva crossover, leggermente diversa anche per quanto riguarda l'aspetto estetico, che è in grado di conquistare il pubblico un po' più sportivo e dinamico. Grazie Vincenzo, per Honda dal MIMO è tutto, leggetelo speciale su Motorbox.com, l'appuntamento è al prossimo video. Ciao!